In primo piano lo sviluppo turistico di Orte, ancora iniziative per la promozione del territorio. Fede e partecipazioni, si è svolta con questo stato d'animo la processione del Cristo morto di Orte. Soldi per le strade dalla provincia, è un problema che vogliamo risolvere, dice il Presidente Meroi. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. Do il benvenuto a Giancarlo Pastura, Presidente dell'Associazione Veramente Orte, che è qui per parlarci dei prossimi appuntamenti che riguardano un po' la promozione del nostro territorio. Benvenuto. Grazie. Prego. Allora, a te la parola e spiegaci un po' quali sono gli appuntamenti previsti. Allora, diciamo che siamo entrati nel vivo della stagione turistica, quindi anche del periodo in cui si cerca di promuovere al meglio il territorio e le attività. In questo periodo pasquale diciamo che siamo stati molto impegnati e siamo tuttora molto impegnati per la gestione delle attività dell'ufficio turistico, in quanto anche rispetto agli anni passati è grande la richiesta per visitare le Orte Sotterranea e il Centro Storico. Un esempio su tutti, il raduno dei camper che si è svolto come tutti gli anni, ma quest'anno i partecipanti sono stati circa il doppio dello scorso anno. A partire dalla prossima settimana, quindi superato, diciamo, il pienone pasquale, riprenderemo un po' le attività promozionali. Mercoledì, il mercoledì della prossima settimana saremo a Civita Castellana, dove verrà presentato, finalmente, dopo anni, le guide del sistema della Via Merina, la quale Orte aderisce sia come comune che come sistema museo, museale, e dove verranno anche distribuite, quindi, tutti gli opuscoli, i teplianni e il materiale turistico dei comuni del Comprensori, dove, logicamente, ci saremo anche noi, ritireremo il nostro materiale e presenteremo in quella sede la nostra offerta turistica. Bene. Poi, nell'ambito di altre attività di promozione del territorio che sono previste nella Tuscia Viterbese in questa primavera, siamo già in contatto con altri comuni per presentare e organizzare, presumibilmente a giugno, un workshop turistico in cui presentare ognuno il suo prodotto. Diciamo che su questo, probabilmente, rispetto soprattutto ai comuni più vicini, ma anche più grandi di Orte, siamo messi abbastanza bene. Questo ci fa piacere. Inoltre, visto che stiamo parlando di un momento, di una fase in cui anche la promozione, anche se poi non è propriamente il mio campo e abbiamo chi la segue del settore, passa soprattutto attraverso i canali informatici e telematici. Ci stiamo, in qualche maniera, attrezzando per la redazione di un sito internet specifico che possa, in qualche maniera, rispondere a tutte le esigenze delle utenze, che non sono solo le utenze che vanno a prendere informazioni, ma anche per gestire su piattaforme digitali tutto quello che riguarda la prenotazione e la gestione degli uffici. Inoltre, stiamo cercando di organizzarci al meglio per quello che riguarda l'evento della Spartan Race. Stiamo comunque in contatto, in collaborazione continua con l'amministrazione e con le altre associazioni che collaboreranno all'evento per far sì di garantire un supporto sia logistico come punta informazioni, che in quel periodo sarà molto importante, sia per accompagnare i visitatori a orte sotterranee. Perché ci sarà una grande affluenza di persone. Ci sarà una grande affluenza, noi cercheremo di veicolare nel nostro piccolo, al meglio orte sotterranee, alle risorse del territorio. Per questo ci impianteremo uno stand nell'area della gara, però contemporaneamente terremo aperti gli uffici. E soprattutto, segnalo che il 24 e il 25 aprile, in quella occasione, quindi al cavallo di quell'occasione, abbiamo deciso come ufficio turistico di garantire le aperture anche in notturna, non solo durante il giorno, ma saremo aperti fino a mezzanotte con l'ultima partenza, intorno alle 22, poi questo nei prossimi giorni magari saremo sicuramente più precisi, usciremo con un comunicato. Questo è quello che faremo in quel periodo. E contemporaneamente stiamo collaborando, diciamo, in maniera esterna, perché poi stanno facendo loro come lavoro importante, principale, con il Bersaglio, con l'associazione Bersaglio, che sta cercando di promuovere a livello di stampa le iniziative che verranno svolte in quei giorni. Questo è un po' il quadro generale. Oltre a questo andrebbe aggiunto il discorso del recupero dei siti, che comunque abbiamo in parte riscoperto alcuni tratti di orte sotterranee che stiamo aspettando l'occasione propizia per inaugurare. Ci era saltata una giornata del FAI, non per volontà nostra, diciamo. Stiamo aspettando la conferma di un'altra, eventualmente, per inaugurare questi tratti. E poi abbiamo sempre quella che è un po' la spada di Damocle, che è il porto di Seripola. Ci stiamo un attimo attrezzando, stiamo parlando con l'amministrazione, abbiamo parlato con altre associazioni che hanno una forte volontà di recuperare quell'area. Ho già avviato, purtroppo, i passaggi che sono necessari per avviare i lavori, in quanto l'area specifica non è di proprietà né del Comune di Orte, né di privati ortani, ma è di proprietà esclusiva del Ministero dei Beni Culturali, per mezzo della sovrintendenza per i beni archeologici, che comunque si è dimostrata disponibile, per cui speriamo che questa primavera ci permetta anche di iniziare a intervenire, a ragionare su quel settore. Benissimo, noi vi monitoreremo. Perfetto. Allora, grazie per essere intervenuto, auguri di buona Pasqua. Altrettanto. E continuiamo con il notiziario. Con la Messa di Pasqua, appunto rimaniamo in tema, con la Messa di Pasqua si concludono i riti della Settimana Santa. Ripercorriamoli con questo servizio. La Settimana Santa si chiude con le celebrazioni pasquali, ma i giorni trascorsi sono stati intensi nella loro preparazione. La Messa in Cena Domini, presieduta dal Vescovo Romano Rossi, è stata come sempre partecipata. Monsignor Rossi, nella sua omelia, ha esaltato l'importanza del Giovedì Santo. Successivamente ha ripetuto il gesto di Cristo nell'ultima cena, lavando i piedi dei ragazzi che prossimamente riceveranno la crisima. La sera, poi, visita dei fedeli al sacramento esaltato negli altari della riposizione. Il venerdì santo la processione, come sempre toccante e significativa. Ha visto la presenza di una grande quantità di turisti e fedeli, che, da quante abbiamo appreso, vengono o tornano volentieri a questa manifestazione, perché trovano un'atmosfera particolare che non è spettacolo o folclore, ma un invito alla riflessione sul sacrificio di Cristo. La processione ha ripercorso semplicemente i suoi riti e i suoi momenti di fede e preghiera, coinvolgendo i partecipanti e i presenti. Come già si sa, la processione di Orta è la più antica d'Italia, ma essa non è una manifestazione folcloristica. Questo lo rifiutano in modo svegnato le confraternite. I confratelli che vi partecipano assumono attraverso questo rito il pieno valore della fede, una fede che però si inserisce nelle grandi fiume della tradizione ortana. Partecipare alla processione è allora identificarsi nella storia locale, ma allo stesso tempo esprimere devozione. I penitenti scalzi, che non rivelano a nessuno la loro identità, neanche ai confratelli della stessa compagnia, che portano catene e pesanti croci, sono l'immagine che racchiude il senso della processione. Devozione, intimità, tradizione. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato nella veste di commissario per il piano di rientro sanitario l'atto aziendale per l'ASL di Viterbo. Si tratta di un documento che contiene la programmazione di ogni azienda che colpisce sprechi e doppioni. L'attuale assetto delle aziende era l'effetto di un mix tra documenti del 2008 e del 2014 e alcune aziende non lo avevano mai avuto. Apriamo ora la pagina di cronaca. Due anni e un mese di reclusione è questa la pena inflitta dal Tribunale di Viterbo a un uomo di orte accusato di lesioni e maltrattamenti in famiglia nei confronti di un fratello malato. Il rappresentante dell'accusa aveva chiesto una condanna più pesante, due anni e mezzo. I difensori dell'imputato hanno annunciato che proporranno appello contro la sentenza. La vittima delle percosse e delle ingiurie, affetto da una grave forma di diabete e costretto a sottoporsi a dialisi, nel frattempo è deceduto ma le sue dichiarazioni rilasciate agli inquirenti subito dopo i fatti sono state sufficienti a far condannare il fratello. La storia è molto triste. L'imputato, sebbene non avesse alcun rapporto con loro, viveva insieme a due fratelli a orte, usando una stanza dell'appartamento solo per dormire. Tossico dipendente e alcolizzato, nel 2009 era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla residenza dei fratelli ma lui, non sapendo dove andare, ha continuato a frequentarla. Sono così iniziate le liti, le percosse, gli insulti nei confronti del fratello malato tanto che in un'occasione è stato ricoverato in ospedale per le lesioni riportate. Il terzo fratello, estraneo ai fatti, non si è nemmeno presentato a testimoniare. Del caso sono venuti a conoscenza i carabinieri grazie alle chiamate dei vicini di casa, impauriti dalle urla che provenivano dall'appartamento abitato dai tre fratelli. Da qui la denuncia per lesioni e maltrattamenti in famiglia. La provincia di Viterbo interviene ancora sulle strade provinciali. Troppi sono i tratti dissestati che provocano non poche difficoltà agli automobilisti. Marco Nicoletti. La giunta provinciale ha dato il via libera all'impegno di 230.000 euro per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali e di quelle regionali, date in delega alla provincia per la manutenzione ordinaria, che sono state danneggiate dal maltempo, non ultime le violenti piogge delle scorse settimane. I tratti interessati sono le strade provinciali Nepesina, Cimina, Ortana, Tuscanese e Bassanese e le regionali Cassia e Castrenze. La somma stanziata, ha spiegato il presidente Meroi, è stata recuperata e sottratta da altre finalità, proprio allo scopo di dare immediata esecutività agli interventi di ripristino della sicurezza stradale sia sulle arterie provinciali che su quelle regionali, la cui manutenzione ordinaria è delegata alla provincia. Questo intervento sta a dimostrare la volontà concreta di risolvere un problema che sta a cuore a tutti, pur nella consapevolezza di non poter fare miracoli. Meroi continua lamentando il drastico taglio di risorse che il Governo centrale e la Regione hanno operato nei confronti della provincia. Questi tagli, ha continuato, hanno fortemente ridimensionato la nostra capacità di azione, obbligandoci a ricercare, nelle pieghe dei bilanci, le somme necessarie ad affrontare le urgenze. Non vogliamo piangerci addosso, conclude Meroi, ma soltanto fotografare la triste realtà di un ente indispensabile al territorio, cui è stata praticamente tolta, per puri scopi propagandistici e demagogici, la possibilità di amministrare. Continua l'impegno dei carabinieri nella lotta ai furti e i risultati sono evidenti. I militari di Orte, durante uno dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato tre romeni per furto aggravato in concorso. I militari, nel transitare all'esterno di una ditta del luogo, sottoposta a tutela fallimentare, hanno notato la presenza di un furgone parcheggiato in modo defilato. Insospettiti sono scesi dall'auto e hanno notato la forzatura del cancello d'ingresso. Così all'interno hanno colto in flagranza tre uomini di 54, 53 e 47 anni, intenti ad asportare circa 200 kg di rame già accantonato e pronto per essere caricato sul furgone. I militari hanno dichiarato i tre in stato di arresto per furto aggravato. Rimaniamo sempre in tema un'altra notizia che riguarda un'operazione dei carabinieri della stazione di Orte che sono stati allertati dal personale di un'agenzia assicurativa che si era insospettito perché da due uomini dal chiaro accento napoletano accendevano polizze assicurative su macchine con i documenti dai quali risultava però fossero nati e residenti nella provincia viterbese. Arrivati sul posto, i militari hanno preso i documenti ed è stato subito chiaro che fossero falsi. In modo particolare il risultato avessero foto dei due uomini ma intestati a persone realmente esistite nel viterbese ma morte da tempo. I due uomini davanti all'evidenza non hanno potuto far altro che ammettere di essere intenti ad aprire polizze su macchine utilizzando documenti falsi di persone residenti nella provincia di viterbese per poter risparmiare circa 400 euro a polizza rispetto alle stesse accese nella provincia napoletana dove l'incidenza dei furti e degli incidenti stradali è molto più alta. Alla luce di ciò i due sono stati arrestati per truffa aggravata e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Nella giornata di Pasqua alle ore 14 andrà in onda Eri e Gelazia, un film di Roberto Nasetti recentemente restaurato. Una buona giornata a tutti da Trevimeteo.com Vediamo la situazione per la giornata di Pasqua dove una circolazione depressionale insisterà ancora sull'Europa orientale con dubbi irregolari e qualche precipitazione. Vediamo le temperature massime piuttosto fredde proprio in queste zone con valori difficilmente oltre i 5-8 gradi più umiti ad ovest. Ma passiamo alla nostra penisola dove l'instabilità sarà diffusa su gran parte del centro-sud. Vediamo prima le temperature minime, saranno piuttosto fresche in Valpadana con valori che scenderanno fino a 4-5 gradi. Le massime invece in calo soprattutto sulla parte adriatica, qui difficilmente oltre gli 11-13 gradi. Ma passiamo al dettaglio previsionale iniziando dalle regioni del nord dove molte nubi al mattino interesseranno un po' tutte le regioni. schiarite poi a partire dal pomeriggio anche se sarà sempre possibile qualche rovescio di pioggia sui settori prealpini così come la fascia delle alte pianure, soprattutto della Lombardia. Al centro Italia nella prima parte del giorno diffusa instabilità con rovesci sparsi, le nevicate sulla dorsale oltre i 1000-1300 metri di quota migliora poi dal pomeriggio a partire dalle terreniche. Infine un'occhiata al sud Italia, instabilità soprattutto tra la Campania, la Basilicata e l'Alta Puglia, meglio inizialmente sulle Ioni che la Sicilia, però arriverà anche qui qualche rovescio a partire dalla serata. Un'occhiata anche alla Sardegna, situazione non tranquilla con occasione per dei piovaschi e eventi forti. Per ulteriori informazioni vi rimando come sempre al nostro sito www.trebimeteo.com Il TG Magazine termina qui, vi ricordo che potete rivederlo in replica ai consueti orari su TRO e TRO2 e nel sito internet teleorte.it A seguire l'appuntamento con la rubrica Fatti e commenti condotta da Stefano Stefanini e Gaetano Alaimo che quest'oggi avrà ospite in studio Don Mauro Pace per approfondire gli argomenti legati alla Settimana Santa. Da Francesca Maccaglia e dalla redazione di TRO Notizie, buona Pasqua a tutti. Arrivederci alla prossima settimana.